Ho fatto stampare questa foto, sapete qual è? Quella dell'altra sera. In questa foto c'è tutto quello che siamo noi. C'è sofferenza, c'è paura, c'è sudore, c'è sacrificio, c'è tutto quello che ci ha portato a giocarci questa partita oggi. La Serie B è là fuori, 90 minuti, dove dobbiamo dare tutto quello che c'è. Ogni energia, ogni forza, tutto quello che è rimasto lo diamo oggi. E dove non arriviamo con le gambe ci arriviamo con il cuore, perché ce lo meritiamo, perché siamo un gruppo vero. Abbiamo mangiato merda tutto l'anno per arrivare qui e ora bisogna farli ricredere tutti. Un'ultima cosa, non so se avrò la possibilità di ritrovarci io, quindi mi dovete fare un po' a me. Oggi mi dovete portare in Serie B. Una per tutti! Un'ultima e uno!